E' stata presentata ieri ufficialmente la 35esima edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile Città di Agropoli presso lo Stadio Guariglia. Tantissime le squadre provenienti da ogni parte del mondo, in totale 55 club e 110 squadre partecipanti, 7 nazioni tra cui Stati Uniti, Porto Rico, Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, Venezuela e naturalmente Italia. Per quanto riguarda la partecipazione delle regioni italiane il numero è di 12 da Piemonte, Lombardia, Toscana, Sardegna, Bruzzo, Lazio, Calabria, Sicilia e Campania. Il torneo patrocinato dal Comune di Agropoli e riconosciuto da UEFA e FIFA è iniziato lunedì scorso presso lo Stadio Guariglia. In programma invece per sabato 26 marzo, sempre presso lo Stadio Guariglia, le finalissime delle 15 categorie ammesse che parteciperanno al torneo, dalla Juniores classe 98 ai piccoli amici di 10 anni più piccoli. Ma fa parte ormai della tradizione, della storia di questa città e soprattutto del futuro, perché 35 anni di questa esperienza meravigliosa e voglio subito a nome dell'amministrazione comunale ringraziare Antonio Inverso per l'intuizione e soprattutto per il lavoro che ha messo in tanti anni, però 35 anni vuol dire che è una manifestazione ormai ancorata, che ha radici profonde e che certamente sarà sostenuta anche in futuro. Sergio esagera, vi do ovviamente il benvenuto nella nostra città. Purtroppo questa è una città dove c'è sempre, quasi sempre il sole, però il torneo internazionale porta sempre un po' di pioggia, probabilmente per avvalorare il proverbio che quando piove c'è un po' di fortuna e ce l'auguriamo davvero. Comunque benvenuti a tutti, benvenuti alle squadre che vengono da ogni parte del mondo e quindi è da 12 regioni italiane, quindi benvenuti a tutti. Lo sport è una festa e solidarietà, amicizia, serenità, in un momento dove l'umanità purtroppo sta avendo grandi preoccupazioni, ma lo sport è una di quelle leve che unisce il mondo, che fa parlare di pace, di solidarietà e di serenità e quindi ci auguriamo davvero che si possa vivere stagioni migliori. Colgo l'occasione ovviamente per augurare a tutti una santa, serena Pasqua, a voi, alle vostre famiglie e soprattutto ai nostri ospiti, spero tanto che si troveranno bene nella nostra città e che possano ritornare qui anche per ragioni non legate allo sport, ma al tempo libero, alle vacanze, a un momento di spenseratezza. Quindi grazie a tutti. Innanzitutto buonasera e benvenuti a tutti coloro che stanno arrivando da ogni parte del nostro paese, ma anche dall'estero. Prima di tutto ovviamente voglio ringraziare gli organizzatori del torneo, la Turi Sport, ma soprattutto la figura di Antonio Inverso, detto Caciotta, che grazie a lui che da tantissimi anni, questa è la 35esima edizione, possiamo vivere questo importantissimo momento che oltre ad essere un momento di sport è un momento dedicato anche al sociale. Proprio per questo mi devi consentire una brevissima parentesi, questo torneo, tu poco anzi hai detto che è stata l'occasione per far incontrare nel 1988 una squadra dell'ex Unione Sovietica, all'epoca la Dinamo di Kiev, con una squadra americana ed era la prima volta che queste due importanti nazioni si incontravano sotto un aspetto sociale e sportivo. Oggi viviamo questo torneo in un momento effettivamente di tristezza, perché i fatti che purtroppo ben noti di Bruxelles fanno sì che non lo possiamo vivere con gioia ed allegria, ma con tanta tristezza nel nostro cuore.